via podgora, via via podgora, via podgora, via via podgora, gallas mi piaci, via podgora, via via podgora, all night long, gallas mi piaci, vergognosissimo, buongiorno, buongiorno, c'è il rientro, non rientra, non veniva mai la mattina perché dorme, anche perché chiusura, Marco, poi l'Inter che vince, ci sono tante cose, stasera vince tutta la notte, tutta la notte, anzi se l'Inter stasera vince, domani sera c'è una grande festa qui, tutto gratis, si mangia sempre, e quindi c'è sempre Vincenzo e i Reducci qua, non dalla guerra, quindi guerra, Inter, c'è un casino, però oggi non possiamo non dedicare una basalettina alla festa delle donne, ma non parliamo di donne, parliamo di una cosa che praticamente questo, il nostro amico Geppo che l'abbiamo avuto in diretta qui, Marco, quindi il tuo bar è andato a Radio Dimensione Suono, alla sveglia dei gladiatori alle 7.20, ci hanno sentito là, ci hanno salutato, gli amici di Roma, e il mio amico Geppo, questa basalettina, Barcelona, Barcelona, alla più grande fiera dei spadacinos del mondo, spadacini, arriva da tutto il mondo, spadacini, allora uno arriva, passa, passa il moschitto, arriva il moschitto, e il primo tira fuori la spada, il moschito morto, arriva l'alto, arriva il Farraca Fabios, il più grande spadacin del mondo, da Spagna, arriva lì tutti a vedere che arriva questo qua e tira fuori, passa il moscherino, tira fuori la spada, il moscherino, il moscherino, e tutto, e non è morto, ma non fai più l'amore, è il migliore, è tornato, Pilosio Reduce, danno a vacanza, hai capito? Un saluto, non fa più l'amore, un saluto, un augurio a tutte le donne, a tutte le donne presenti, neanche una, qua praticamente, come diciamo noi, ci dobbiamo accontentare, ciao, 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 da quello delle 7.20, ciao, ciao, è il migliore spadacin, Farrac, Fabios, Pilosio, 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 All night long Galax mi piace Vergoñosissimo